A Venezia si trova l'ufficio europeo dell'OMS, all'interno dell'ospedale Santi Giovanni e Paolo, il più grande della laguna. Qui, al primo piano di questo palazzo, è stato redatto il famoso report censurato dall'OMS, quello sulla risposta italiana alla pandemia di Covid-19. Sono un giornalista e sto ricostruendo un po' tutta la vicenda che ha riguardato anche Francesco Zambone. Mi chiedevo se qua la cosa con me sia stata presa, visto che... Tutta la domanda legittima è corretta, ma la chiesa in cui siamo per la preghiera è sbagliata. Io non posso, non ho il diritto di ridurre il discorso, perché c'è un limite dove si può andare e non si può andare.